Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Tuccio e abbiamo con noi per il secondo anno Mario Agostinelli che l'anno scorso era venuto a informarci, a fare il punto, l'anno scorso che poi era maggio, non era tantissimo tempo fa, gli avevamo chiesto di fare il punto sul PNRR. Mario Agostinelli è un chimico fisico, ha lavorato, ha fatto ricercatore all'Enea, si è occupato di nucleare ai tempi dell'Enea e da lì forse la sua vocazione ecologista può essere che sia nata proprio lì. L'ecologista è stato partecipato al 68, alla nascita del manifesto e quant'altro, consigliere regionale della Lombardia, attualmente si occupa di, è presidente dell'associazione Laudato Si, nata dopo l'enciclica di Papa Francesco, il politico più vicino ai movimenti ecologisti della nostra epoca e come associazione portano avanti le istanze per una corretta gestione del pianeta anche e Mario è portavoce del Comitato Mondiale per l'Energia e il Clima. Sul sito dello Zenzero potete trovare il link all'associazione Laudato Si e anche al sito Energia Felice che ci dà alcuni esempi di quello che si potrebbe fare. Anche oggi abbiamo chiesto a Mario se era possibile di fare il punto sul PNR, però visto il periodo che stiamo vivendo riteniamo importante approfondire i discorsi sull'energia e quella che lui stesso ha chiamato l'illusione del nucleare dopo gli esperimenti americani di dicembre scorso. Passo la parola a Federico per introdurre Mario e gestire la... Ah, un'ultima cosa importante forse. Le domande possono essere fatte in chat, però Mario ha precisato che non è assolutamente contrario se durante la conferenza qualcuno alza la manina e gli pone direttamente la domanda. Ah, ok, mi sembra di aver detto tutto e passo la linea a Federico per introdurlo e a Mario per cominciare. Grazie. Grazie. Federico? Forse Federico ha dei problemi? Mario vuoi cominciare tu? Sì, posso farlo. Grazie. Naturalmente comincio ringraziandovi per questo invito. Ero già stato anche in presenza allo Zenzo, credo, quattro anni fa. Un incontro sempre su temi che riguardavano l'ambiente. Cioè era stato un libro di fisica teorica? Sì, un libro che si chiamava... Aspetta, Il mondo al tempo dei quanti. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Ecco, oggi cerco di conversare attorno alla necessità di un cambio così radicale da essere oggettivamente, oltre che soggettivamente, ritardato. Cioè noi veniamo dall'era dei fossili e abbiamo la necessità nell'arco al massimo di un decennio di fornire di energia le nostre relazioni, la nostra mobilità e tutto quanto circonda la nostra civiltà attraverso energie che non disperdano clima alteranti in atmosfera e nemmeno lasciano dei residui, come il caso del nucleare, che non sono riassimilabili nei cicli della natura. Sostanzialmente la percezione nuova che è stata suggerita e è un aspetto interdisciplinare riguarda il fatto che nell'intero ciclo di vita, cioè non solo all'atto del consumo, ma all'atto della produzione, si lavori sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista poi dei comportamenti e dei modi e degli stili di vita. Abbiamo avuto un blackout. Ah sì? Sì, il modem è andato fu in tilt. Possiamo partire comunque a questo punto. Ah, e quindi rifaccio da capo? Non abbiamo registrato niente, penso. Non so se Maria Teresa... No, è registrato, è registrato. Ah, bene, è così atto. Però se non l'avete sentito, forse se ne ha voglia... No, 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 vai avanti. Non lo so. Vai avanti, vai avanti, non c'è problema. Se avete registrato, non c'è problema. Allora, io comincio da questa idea nuova che ci siamo dati osservando il mondo con strumenti che nell'arco degli ultimi 400 anni si sono radicalmente modificati. Cioè noi veniamo da un'idea termaica, un cosmo medievale dove delle sfere si compenetravano. Questo universo è stato perforato da Newton con le sue leggi universali, quindi che non riguardavano più soltanto la Terra, ma l'intero universo e poi lo spazio è stato compenetrato da Einstein con il tempo. Viviamo in uno spazio-tempo che si modificano a vicenda e risaliamo tra l'altro con la teoria generale della relatività addirittura a una nascita del mondo dal nulla. Dal nulla è sbagliato, ma dal vuoto. Cioè la novità, se volete, anche sul piano della narrazione fatta dal Papa e che ha un salto straordinario anche rispetto a tutte le narrazioni religiose, è che noi proveniamo tutti da un istante, e la parola istante è impropria, ma da una singolarità in cui tutta la materia e tutta l'energia che oggi si espande ancora e governa l'universo erano più nemmeno che una fluttuazione quantistica. cioè il vuoto non è esattamente nulla. Il vuoto è in condizioni assolutamente improbabili, in grado però di creare o materia negativa o materia positiva. E oggi si spiega la nascita da 14 miliardi di anni di tutto quanto abbiamo intorno come una straordinaria eventualità in cui all'inizio si erano formate particelle che perdurano tuttora, cioè all'inizio proprio le particelle elementari, che hanno cominciato aggregarsi attraverso forze magnetiche e elettriche e a assiemarsi poi attraverso la forza di gravità e a allontanarsi o condensarsi attraverso la forza debole e la forza che tiene uniti i nuclei agli elettroni e i nuclei al loro interno. Cioè la cosa se volete incredibile nel senso è che tutto era condensato in una unica entità. Calvino nel suo meraviglioso Cosmicomiche scherza e racconta che nello stesso posto si trovava la lavagna del professore che spiegava l'addizione a scuola la tripolitania l'ipotenusa e le montagne rocciose. Allora questa espansione dell'universo da luogo prima alle galassie poi alle prime stelle che hanno una quantità di energia tale da poter comprimere al proprio interno i nuclei di elio che erano il primo elemento che si era formato nei trecentomila anni seguenti al Big Bang quando diciamo che Dio dice Fiat Lux non riportiamo esattamente l'esito degli esperimenti che vengono fatti ad esempio a Ginevra la luce arriva quasi un milione di anni dopo la nascita del mondo primordiale ecco questa evoluzione è un'evoluzione che per 12 miliardi di anni si compone e ricompone in continue cosmogenesi che danno origine per fusione dovuta all'enormi masse e quindi a una forza di gravità straordinariamente intensa danno luogo a nuclei di atomi sempre più pesanti per consegnare dopo 12 miliardi di anni a alcuni pianeti rocciosi praticamente tutti gli elementi della tavola di Mendele che si sono composti proprio attraverso il prevalere della forza di gravità che era talmente poderosa da vincere la forza di repulsione all'interno dei nuclei e da comprimere gli elettroni attorno ai neutroni che avevano carica apposta ecco perché dico e mi sono soffermato a lungo su questa descrizione perché non c'era nessuno di noi nessuno osservatore allora che potesse descrivere quanto succedeva noi torniamo indietro cercando di ripetere attraverso degli esperimenti e creando scontri di enorme energia tra particelle all'interno dei ciclotroni di apparecchiature di altissima energia per vedere se si riesce a riprodurre una condizione dal punto di vista energetico e dal punto di vista della materia che possa riprodurre questa evoluzione insisto su questo fatto nessuno però questa evoluzione l'aveva osservata quando arriva l'uomo e l'uomo arriva sostanzialmente 300 mila 300 mila anni fa mentre 400 mila anni fa direi mentre la vita i primi batteri si organizzano sulla Terra attorno a 300 mila anni prima a 300 milioni di anni prima qui c'è un punto di enorme importanza per le cose che diremo dopo la materia che si può organizzare e può riprodursi sulla Terra è legata a un sistema straordinario e unico almeno fino adesso si stanno cercando degli esoplaneti che abbiano condizioni simili quelli della Terra e cioè un pianeta roccioso su cui si sia condensata a una temperatura adeguata una grande quantità di acqua e che possa essere rifornito in continuazione da un astro posto a una distanza sufficientemente lontana da poter penetrare con i suoi raggi e con la sua energia una atmosfera di non più di 60 chilometri quindi vedete la vita di 7 miliardi sulla Terra potrebbe essere una unicità potrebbe essere un caso particolare di un universo che è così complesso e così stravagante se volete da rendere questa particolarità della riproduzione sulla Terra un fatto ad oggi come si può dire introiettato conosciuto descritto comunicato dalla specie umana e a loro modo forse dalle altre specie viventi ma al di fuori di questo non appare un'attività cosciente un'attività che abbia come conseguenza della propria morte una riproduzione cioè la sequenza ordine e cioè la nascita disordine la morte e di nuovo nascita e morte ha consentito da quando noi conosciamo ad esempio la storia del studiamo a scuola dei babilonesi o da quando c'è la scrittura insomma o dalle prime caverne dipinte ecco ha consentito grossomodo a 1250 generazioni di riprodursi perché ho fatto questo lungo discorso perché gli scienziati oggi dicono che con le condizioni attuali e con il mantenimento del comportamento del consumo di energia che oggi disponiamo probabilmente saliranno dopo quelle generazioni non più di 6 o 10 generazioni e adesso cercherò di descrivere in maniera molto così piana l'aspetto così drammatico che c'è davanti noi siamo in un'epoca storica assolutamente mai sperimentata cioè abbiamo a disposizione una tecnologia come quella nucleare che è in grado di distruggere in un tempo assolutamente irrilevante tutto quanto c'è di vivibile di vissuto compreso anche le piante tutto l'inverno nucleare ha questo significato e questa decisione di ricorrere all'arma nucleare è addirittura nelle ipotesi io spero così lontane da non essere mai praticata ma l'abbiamo ormai considerata una possibilità questa possibilità è concomitante con la minaccia climatica cioè noi se entro i prossimi dieci anni non blocchiamo completamente le emissioni di anidride carbonica e metano perché sono questi i due climateranti particolarmente decisivi innanzitutto andiamo incontro al fatto che l'ingiustizia sociale proprio perché vengono meno le materie fondamentali di cui si nutre parlo dall'acqua alla carne i vegetali l'ingiustizia sociale creerà condizioni che provocheranno ulteriori pericoli di morte quindi c'è un circolo quasi vizioso cioè ingiustizia sociale minaccia nucleare minaccia climatica e quindi se posso condensarlo un tempo che anziché essere lineare anzi a noi è un tempo che viene a mancare io racconto sempre a questo punto la sorpresa che ebbi quando con la mia nipotina ero in piazza san marco e l'avevo portato a vedere queste meraviglie e improvvisamente lei a 11 anni mi disse ma credo nonno che quando avrò la tua età non si può più venire in piazza san marco e la cosa mi ha colpito perché nella mia vita fino agli ultimi 15 anni non si era mai dato un tempo a scadere cioè rischiamo che il mare superi 6 metri se va avanti così questo dice l'IPCC già nel 2080 e quindi non so che noi utilizziamo tutto il pil per poter creare barriere per poter alzare gli edifici per poter evitare le inondazioni tra l'altro che colpiscono in modo particolare le popolazioni più indigenti allora questo racconto è un racconto che per la prima volta e io non sono un credente è stato fatto con estrema coerenza da Bergoglio cioè Bergoglio ha scritto questa straordinaria laudato sì incrociando a questo punto le discipline allora abbastanza separate all'interno della versione che illustra il futuro del nostro pianeta come un futuro di estrema precarietà ma questo usando il massimo della scienza della coesione tra gli istituti scientifici e con il contrasto duro di un negazionismo che tuttora perdura e che cerca di come si può dire non alimentare quella che viene chiamata una insulsa paura ecco di fronte a questo io cerco adesso di essere piuttosto veloce e quindi qualche slide voi le avete le potete guardare guardate qual è lo stato in cui noi distribuiamo energia noi abbiamo pozzi dove il sole ha lavorato 150 milioni di anni fa trasformando la prima vegetazione o i primi batteri o le conchiglie in gas carbone o petrolio secondo della pressione a cui venivano sottoposti dei cataclismi questo fossile viene estratto trasportato da posti molto lontani a delle centrali si chiamano non a caso centrali cioè dei luoghi dove una grande potenza viene ottenuta attraverso normalmente la combustione dei fossili o se il nucleare attraverso la fissione o la fusione e poi viene questa energia in forma di elettroni di un fronte di elettroni che scorre per migliaia e migliaia di chilometri trasportato alla spina a cui noi attacchiamo il nostro frullatore se vedete in questa zona io provo ad andarci sopra col mouse non so se tra l'altro è una domanda voi state sentendo sì? assolutamente sì 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 sentiamo e vediamo anche il mouse sull'immagine benissimo fate conto che questa è una uno schema che quando io ero all'Enea avevo definito mettendo su grafico esattamente a sinistra le fonti di energia vedete carbone gas naturale biomasse nucleare e le quantità disponibili il percorso energetico di trasformazione di queste perché tutti vanno o in raffineria o in centrale o vengono bruciate il residuo che poi arriva a essere energia utile vedete è questa parte gialla che né più né meno che il 10% di tutta quella che viene prelevata e voi capite che se questo volano è tanto più veloce cioè se noi consumiamo tanto di più beh questa fonte fossile e non certo naturale non rinnovabile si esaurisce al più presto quindi noi siamo in un sistema che oltre a negare alla vita la possibilità e lo dirò meglio poi per l'effetto di aumento della temperatura porta alla consunzione delle materie prime da cui proviene l'energia che noi utilizziamo ecco qui io vi voglio un momento illustrare lo straordinario lavoro dei 386 istituti a livello di tutto il mondo poi da le isole che verranno sommersi fino ai deserti del Cile o ai ghiacciai dell'Himalaya ecco questi scambi internet ha consentito tra l'altro di lavorare praticamente quasi in contemporanea si trasferiscono miliardi gigabyte di osservazioni per valutare i mutamenti di 140 parametri che vengono poi distribuiti e riassociati a seconda delle aree su cui influiscono cioè il cambiamento climatico non è la stessa cosa nelle aree di alta montagna dove è più forte perché c'è l'effetto albedo tra l'altro che respinge se volete la radiazione solare ma man mano che si sciolgono i ghiacciai le rocce assorbono di più di prima e quindi lì gli effetti come è accaduto sulla marmolada sono macroscopici i poli sono addirittura la fonte di quello che potrebbe essere l'aumento del livello medio dei mari cioè si sta già facendo il conto che se come ormai appare certo almeno una volta all'anno potrà essere attraversato il polo nord con un rompighiaccio cosa che oggi è impossibile ma entro il 2060 si prevede che questo sia fattibile e questo vuol dire che non ha più spessori impenetrabili ecco allora si valuta che la massa d'acqua che si distribuisce potrebbe portare un innalzamento entro il 2100 dei mari attorno a 3 e 8 metri medi in alcuni punti attorno 6 metri perché poi sono le correnti che ridistribuiscono anche il livello e la copertura delle onde che vengono a ricoprire le coste la cosa significa per le comunità costiere non solo abbandonare ma essere prive di tutta una serie di fonti di alimentazioni che non sono recuperabili in altre zone cioè pensate a una banalità pensate che già oggi ad esempio la Moesciandone ha comprato gran parte di terreni in cornovaglia dove sta piantando champagne nella prospettiva che non sia più nella Borgogna il luogo principale di produzione perché man mano che si sposta la temperatura verso nord si spostano anche le coltivazioni cioè da me non c'erano gli olivi a Varese oggi a ogni rotonda di strada c'è piantato un olivo ecco la questione però non è soltanto quella di eventi che gradualmente accompagnano la graduale e irreversibile aumento della temperatura ma il fatto che si possano condensare precipitazioni e cambiamenti improvvisi estrema siccità come quella che sta avvenendo sulla pianura padana è una cosa incredibile a casa mia non piove da facevamo il conto con questi ragazzi della scuola da loro dicevano 93 giorni ecco non piove dicono da 93 giorni questi cambiamenti hanno effetti queste sono immagini che vengono dall'IPCC che dicono che la nostra zona vedete l'area del Mediterraneo l'area europea è particolarmente esposta esposta in modo diverso agli eventi dannosi catastrofici cioè ad esempio nel prossimo trentennio rispetto al trentennio precedente cioè rispetto al 2020 noi potremmo avere nelle nostre zone un aumento di temperatura di almeno trenta giorni all'anno superiore ai 40 gradi questa cosa è già avvenuta nella pianura padana per dodici volte quest'anno a Brescia a Cremona e non ricordo l'altra città che non è Milano Mantua nello stesso tempo le precipitazioni hanno una dislocazione assolutamente non penetrata all'aumento di temperatura quindi l'aumento di temperatura fa ricadere grandi eventi di piogge di devastazione con esondazioni tanto più grandi quanto più ci si sposta nell'area dell'Europa centrale difatti vi ricordate come sono state spaventose le inondazioni del Reno e della Mosella e degli anni scorsi e come attorno al Mar Ligure l'aumento di temperatura che io ho registrato perché ho amici che abitano a Zoagli e facevamo questa misura di ben 4 gradi durante giugno comporta una tendenza alla condensazione sopra un mare che ha un contenuto di energia molto elevato che provoca degli scrosci delle piogge così intense da apparire simili ai monsoni se volete cioè da dare un contenuto tropicale quasi al clima di alcune aree mediterranee io ho alcuni amici che da rapallo mi chiedono se trovo casa per loro dalle parti di Varese perché hanno avuto dei danni irreparabili noi dobbiamo renderci conto che non miglioreremo al massimo avremo una maggiore resilienza ma se non smettiamo di comportarci come ci comportiamo gli eventi hanno una rapidità superiore addirittura alle durate della nostra memoria e al racconto delle nostre generazioni qui adesso per rendere un po' più piacevole la cosa metto i vantaggi se noi interveniamo perché sarebbe brutto voglio chiederti una cosa prima di questo che è importante dimmi pure secondo te la nostra classe politica e forse anche quella diciamo a livello mondiale queste cose che tu ci hai raccontato le sa le conosce le ha percepite le conosce perché l'IPCC manda semestralmente un rapporto a tutti i governanti del mondo quindi non si può dire non lo sapevamo il problema era cosa facciamo perché impedire che quelle cose il problema è cosa costa sul piano degli interessi economici e della giustizia sociale e questo è molto importante per la politica cioè oggi occuparsi di ecologia integrale significa occuparsi del nostro futuro e l'idea di essere ogni giorno continuamente bastonati dalla notizia del giorno che sposta alla notizia del giorno prima e ci fa dimenticare di proiettare le nostre previsioni sul futuro è un danno in gran parte voluto dal sistema che vuole mantenere il modello di ingiustizia che c'è cioè io sono di quelli questo lo dico a titolo personale però lo dico con molta ragione naturalmente che pensa che una parte della classe dominante a livello mondiale pensa che non ci sia posto per tutti sulla terra e che quindi le migrazioni il fatto che muoia la gente in mare che ci siano grandi eventi disastrosi che ci sia penuria siccità ecco la mettono in conto la mettono in conto qui due o tre miliardi che invece sono tagliati fuori cosa ne sanno qualcosa e cosa possono fare perché questo mi pare essere il grosso problema questo però è il vero problema cioè nel senso che se questi organizzassero le loro forze come temo che prima o poi avvenga e non ci sia invece una cooperazione politica ma di lunga portata di lunga prospettiva che faccia in modo che sia la cooperazione e non la competizione a risolvere il nodo dell'egemonia sulla terra potrebbe davvero succedere che proprio le popolazioni più popolose tra l'altro e più non so provate a pensare all'India ad esempio l'India ha un potenziale così enorme e anche una cultura dietro che se si aggrega e si arma capite non si può risolvere colme guerre per questo vi dicevo che la guerra e la pace sono un elemento essenziale di questo mio racconto cioè solo la pace può garantire che i diritti alla vita perfino al salario giusto all'orario si possono ottenere solo se c'è pace la guerra li cancella questi diritti guardate le immagini spaventose che provengono dall'Ucraina però per darvi anche qualche se noi stessimo entro un grado e mezzo cosa che ad esempio alcuni paesi hanno adottato l'Islanda in una maniera a cui è quasi arrivata l'Islanda è molto piccola però la Germania cammina a grandi passi verso un grado 5 e ora tentenna perché una parte ad esempio decisiva per ridurre l'aumento di temperatura è quella di non ricorrere al mantenimento dei motori a benzina a gas e a petrolio ma saranno tutte le lezze questa riduzione di un grado e mezzo è la previsione che si può ottenere facendo quella riduzione di emissioni di gas serra giusto? giusto magari se la spiego un po' meglio di quanto ve la spiego meglio anche come quantità però fate conto anzi l'anticipo subito se entro il 2050 i mix energetici di produzione dell'elettrico dell'elettricità scusa non contengono più fonti fossili cioè abbiamo quindi 25 anni davanti per abolire tutto il carbone tutto il gas e tutta noi possiamo avere una quantità di CO2 e di metano che non superano complessivamente i 500 parti per milioni in atmosfera uno dice beh ma queste sono avviene così la radiazione elettromagnetica del sole è composta da diverse energie e da diverse frequenze quella infrarossa in modo particolare interagisce direttamente con le molecole di CO2 e stende stira i rapporti di legame tra il carbonio e l'ossigeno della CO2 facendola vibrare questa vibrazione si trasferisce in termini di temperatura all'intera atmosfera e se volete la vita sulla terra per gli animali è stata possibile quando la CO2 si era ridotta sotto i 500 parti per milione noi ci stiamo avvicinando a tornare lì cioè a tornare in una fase in cui la quantità di CO2 è tale per cui il ciclo vegetale e l'assorbimento di CO2 da parte dei vegetali non è più sufficiente a riprodurre abbastanza ossigeno per mantenere la vita sulla terra abbiamo una domanda di Marco Olobardi chiede degli aggiornamenti semestrali dell'IPCC si parla di riduzione di popolazione e di PIL pro capite insomma se questi aspetti di cui abbiamo parlato rientrano appunto nelle non lo fa credo sia molto delicato perché vorrebbe dire quali sono i fa le previsioni medie sulla terra cioè allora dice che ad esempio il PIL pro capite se si supera 1,5 gradi e cioè il PIL pro capite per riparare i danni equivale al 25% del PIL pro capite scusate ho detto una sciocchezza il PIL mondiale necessario per riparare i danni che avvengono per l'aumento climatico superiore a 1,5 gradi equivale al 25% di tutto il PIL mondiale tenete conto che questo vuol dire che non c'è più non ci sono più le pensioni ad esempio non c'è più la sanità viene radicalmente ridotta il tenore di vita viene drasticamente abbassato e naturalmente la mia domanda sì scusa la mia domanda era per questa ragione perché nei report dell'IPCC fino al quinto di questi aspetti cioè del diciamo del indirizzare la riduzione della popolazione e di indirizzare la riduzione dell'economia quindi una transizione verso una riduzione dell'espansione economica quindi andando a ridurre il pro capite non se ne parlava nell'IPC6 nell'ultima se ne parla ma solamente nella relazione completa completa è vero in quella per i in quella per i decisori pubblici di questi due aspetti non se ne parla mentre invece le frasi in cui si identificano queste due cose come fondamentali per riuscire a restare sotto l'un grado e mezzo in quello completo ci sono quindi la mia domanda era io ho il dubbio che ai decisori politici questo messaggio arrivi arrivi mai perché è filtrato da qualche parte arriva ma l'IPCC diplomaticamente non attribuisce i disastri non li indica perché tutti capirebbero che c'è un certo pezzo del pianeta che soffre particolarmente rispetto ad altri e quindi l'indicazione è un'indicazione che viene data come responsabilità generale di fatti l'IPCC e le COP fino alla COP27 tendono a dare una indicazione su una visione globale sul comportamento complessivo della Terra è un fatto molto più delicato molto più politico se volete molto più cruento molto più feroce quello di attribuire ad esempio a questa o a quell'altra situazione il massimo di pericco però guardate che è già avvenuto qualcosa del genere gli abitanti di 12 delle isole del Pacifico si sono consorziati e hanno fatto richiesta con una mozione all'ONU di essere aiutati dal tutto il resto della popolazione a tenere le loro isole in vita scusa di pure se vuoi posso continuare si continuo ma se volete posso anche chiarire meglio qui volevo dirvi una serie di elementi così tanto chiariamo ci dai un quadro generale perfetto allora veniamo di nuovo a me cioè noi a un grado e mezzo evitiamo che ogni dieci estate manchi il ghiaccio nella zona del polo nord e questo è cioè questo scarto solo di mezzo grado dà l'idea di come siamo arrivati all'estremo ormai delle nostre condizioni ad esempio il permafrost che voi sapete cos'è quella parte su cui scorrono i binari dalla transiberiana in modo particolare la parte che rimane per tutto l'anno praticamente congelata e si scongela soltanto in un breve periodo in quel periodo esce molto metano dalla ecco e lo scongelamento di aree tanto più grandi di permafrost dovuto all'aumento della temperatura tra 1 e 5 e 2 gradi peggiora notevolmente le condizioni non solo di vita ma addirittura della temperatura media del pianeta perché anche il metano ha un effetto climaterante questo effetto domino non mi pare a catena che peggiora rapidamente le situazioni sì sì e in più durano tantissimo tempo cioè la CO2 attraversa cioè noi siamo in una condizione adesso peggiore ma poi non vorrei dilungare troppo su questo perché la saturazione degli oceani è già quasi completamente avvenuta allora ogni getto ulteriore di CO2 da una ciminiera è peggiore di prima perché la parte che veniva assorbita dagli oceani è ormai saturata e quindi va direttamente in atmosfera e si fissa nelle rocce abbiamo cioè una situazione molto deteriorata fate conto ad esempio con queste cose così belle il 6% degli insetti l'8% delle piante il 4% dei vertebrati verrebbe a estinzione scusate a estinzione per uno scarto di temperatura così basso i coralli avrebbero una la chiamano sbiancamento che si nelle zone di coralline viene valutato attorno al 40% di tutta la superficie visibile cioè perché cambierebbe l'acidità dell'acqua del mare e quindi cioè siamo di fronte a una serie di effetti che così dico quello che a scuola non ci hanno mai voluto non voluto forse non lo si sapeva oggi ad esempio è necessario questo cioè noi abbiamo fatto un corso con le scuole della CGL che utilizzano una piattaforma di Proto che è il loro la loro fondazione per la formazione degli insegnanti un corso che hanno utilizzato come credito per gli insegnanti 18 lezioni un po' del tipo di questa qui ma poi anche orientate sugli scarti e sulla biodiversità non solo sugli aspetti climatici come vi sto facendo io perché abbiamo articolato e sono state utilizzate dagli studenti come 12 ore frequentate sotto il titolo di educazione civica lo potete se tanto terremo dei rapporti credo dopo io vi posso scrivere le potete scaricare queste 18 lezioni da un sito e vi danno una password a 60 euro che vi consente di tenere per voi e di scaricare quanto volete le lezioni e le lezioni non hanno copyright per cui voi le potete comporre come volete questo tema è quello dell'educazione no? sì io parlo dell'educazione all'ecologia nel senso letterale di questo termine di questa complessa interazione tra il vivente e l'inorganico il problema secondo me di questo aspetto che è importantissimo e comunque si comincia a fare diciamo anche la verità è che non abbiamo tempo perché poi anche qui per poter far sì che ci sia una massa di umani che abbiano le conoscenze adeguate per capire cosa sta succedendo di qualcosa che non vedono a quei loro occhi perché questo secondo me è il problema fondamentale di questa situazione non percepiamo questo cambiamento se non in termini molto vaghi e il tempo per cui ci sia appunto qualche miliardo di cittadini informati che facciano pressione su una classe politica che per altri motivi probabilmente non è sorda e cieca rispetto a queste cose è fondamentale ecco anche qui abbiamo il tempo per poter fare in modo che si formino quanti anni ci vogliono io credo però che ad esempio il rapporto con i giovani sia una cosa e con la scuola un fatto straordinario e poi credo che la politica debba essere questo in gran parte cioè io non penso che la politica possa continuare a essere una politica di oppressione di quelli che hanno diritto alla vita perché questo sta diventando no? cioè una forma di violenza di coercizione di rispingimento va sempre più approfondito invece questo tema di cui tu hai detto così bene e nelle scuole l'unico modo percorribile è che il consiglio di classe o il consiglio degli insegnanti faccia una formazione uso la parola interdisciplinare cioè occorre che quello di lettere e quello di scienze esprimano le loro conoscenze con un colore simile comprensibile e assolutamente trasmissibile e ci si riesce perché vedi ad esempio io ho fatto sono un chimico fisico no? e poi ho fatto il ricercatore poi ho fatto il sindacalista quando avevate Ranieri segretario siamo molto amici della CGL Lombardia io segretario generale scusa lui della Liguria io segretario generale della CGL in Lombardia e avevamo provato già con le scuole a fare delle sperimentazioni di momenti interdisciplinari cioè prendere l'insegnante di matematica che fa i grafici quello di biologia quello di chimica quello ecco questo riesce meglio nelle superiori la sorpresa è che noi abbiamo fatto un corso con le elementari e questi ci hanno rimandato in forma di disegni delle slide veramente molto belle molto belle su questo però mi fa piacere accennare questa nostra esperienza che come costituto stiamo conducendo e che abbiamo fatto questa esperienza di abbiamo chiamato centenelle dell'aria quindi il problema dell'inquinamento però ne abbiamo approfittato per dare agli insegnanti che peraltro hanno seguito molti di loro con grande diciamo interesse questa esperienza tutto un pacchetto di materiali che va nell'ottica che dici tu cioè un pacchetto integrato che permette appunto ai ragazzi partendo da questo caso anche di una sperimentazione pratica insomma cosa respirano a casa o a scuola perché poi di questo si tratta è ovviamente molto limitato per poter però andare a approfondire queste altre tematiche e capire le grandi interazioni allora come esito ad esempio di questa chiacchierata prendiamo l'impegno di risentirci e di collaborare a fare un impianto di un corso interdisciplinare su queste cose può essere una buona idea tra l'altro diciamo anche il corso perché è un argomento un po' laterale ma è importante noi abbiamo fatto la richiesta agli ordini dei giornalisti Liguri di poter fare sì che questi appunto questo corso anche questa chiacchierata che stiamo facendo con te non c'è il tempo tecnico ma comunque avremo a disposizione della nostra registrazione possa diventare un credito formativo per i giornalisti e anche questo mi pare un elemento interessante se riusciamo ottenere questo è una crescita di conoscenza globale in cui anche qui il giornalista ovviamente ha una grande responsabilità per far passare notizie informazioni ma senti prendiamoci in parola assolutamente sì mi fa piacere andiamo avanti ma tanto abbiamo anche le mei sì sì assolutamente non è stata una buona occasione questa è un'altra cosa curiosa qui è un mio amico che a Venaria Reale è il capo delle guardie ecologiche e cura l'apicultura mi manda del miele squisito allora guardate da 1,5 a 2 gradi a 3 gradi e 2 1,5 è quello che vogliamo 3 gradi e 2 è dove arriviamo sicuramente se continuiamo così e la guerra che è in corso dà l'idea che addirittura andiamo peggio andiamo addirittura peggio perché capite la concentrazione ad esempio così ve lo dico subito senza dopo farvi perdere tempo la concentrazione di CO2 di una giornata di guerra in Ucraina equivale alle emissioni di CO2 di un anno intero di tutta la popolazione della provincia di Bologna capite una scelta ad esempio di una guerra infinita con armi che non solo creano la sofferenza e la morte ma creano anche la morte delle generazioni future più in fretta ecco voi vedete a 1,5 gradi tutta la nostra zona alpina e anche oh scusate e anche la zona continuiamo della Sardegna ad esempio delle isole del sud diventano sicuramente luoghi di cultura delle api e la cosa sorprendente è che lo diventano ancora più di come erano prima l'Inghilterra e gli stati del nord mentre invece vedete la Francia la Germania e questi stanno perdendo e sono stati loro i primi a dare l'allarme sulle morti delle api ecco guardate il caso estremo di 3 gradi e mezzo da noi non ci sarebbero più se non sopra i 2200 metri sono cose impressionanti ma questo è un un biologo che è il capo delle guardie e lui ha fatto questi conti e forse in Sardegna e in Sicilia sì eccetto in Sardegna e Sicilia che però sarebbero anche lì molto limitate cioè rischiamo di perderle del tutto le api e poi sai un conto avere il miere vicino a casa tua un conto farlo venire dalla Norvegia certo certo beh noi siamo alla sesta istinzione devo andare un po' più veloce perché ecco questa è una cosa bella che vi volevo far vedere perché questa è uscita oggi Vandana Shiva ha messo sul suo Instagram questo lancio di primavera a tutti gli 8 marzo le donne indiane raccolgono dei semi o i primi fiori e li lanciano racconta lei nel suo blog che c'erano milioni di strade in India di strade in cui si erano proiettate queste donne ieri l'8 marzo ma i colori sono sempre meno colori di fiori o di vengono spesso utilizzati coloranti sintetici e questo dà il segno se volete è una cosa che è arrivata a me ieri e dà il segno proprio di essere di fronte a un cambiamento epocale un cambiamento grande cioè noi dobbiamo questo è un disegnino che ho fatto io ma se noi pensiamo di avere un budget di carbonio qui ho lasciato ancora un grado a due gradi ma i due gradi dentro una clessidra beh già ce n'è rimasto a disposizione molto poco rispetto all'inizio della dell'età industriale ma se gira troppo veloce questa è molto aperto questo buco cioè ne consumiamo troppo beh noi abbiamo a disposizione soltanto dicevo prima non più di vent'anni e dobbiamo alla fine di questi vent'anni spendere il 20% del PIL mondiale per riparare le ecco io vi faccio un esempio che conosco bene attorno a Manhattan c'è una zona che era la zona dove approdavano i primi tutti i migranti e dove veniva visitata la gente che entrava no i nostri il mio bisnonno ad esempio è andato in America così con uno di quei vapori che partiva da Genova no e è una zona di attracco una zona bassa è stata comperata per 31 chilometri a sorpresa da grandi agenti immobiliari e la gente del luogo che era piuttosto indigente popolare ha venduto volentieri le loro case questi adesso hanno cominciato a costruire una muraglia di 5 metri sul bordo per buttare giù le vecchie case e investire in palazzi che saranno riparati dall'innalzamento del mare capite ci sfuggono a volte modelli interessi ecco e quindi noi stiamo continuando a chiederci che tipo di soluzioni energetiche utilizziamo allora quello in altro grande è l'interno del tokamak dove io sono stato a fare uno stage di 6 settimane quando ero sono magneti un uomo è grande ecco come dal basso fino a questa altezza del mio cioè io lì dentro non potevo guardar fuori dentro quella scanalatura quindi è grosso modo 66 metri di diametro liter e 40 metri di altezza cioè guardate che roba mettete lì queste sono le energie rinnovabili allora queste soluzioni ve le voglio consegnare facendo un paragone della potenza che viene espressa da una quantità di materia che viene trasformata in energia allora quanto più piccolo è lo spazio che viene compromesso nella reazione energetica tanto più grande è l'energia che ne esce cioè i nuclei sono tenuti da un'energia forte e quindi se io premo e fondo insieme due atomi di idrogeno o un atomo di idrogeno e un atomo di elio beh ho bisogno di una forza molto grande e ne esce una quantità grandissima di energia allora per un grammo di idrogeno che fonde io faccio uscire tanta energia da quell'enorme macchinario che avete visto quanto otto grammi di uranio fissile nel reattore di cui fa la turbina l'ansaldo quindi un grammo di uranio sono otto grammi un grammo di idrogeno equivale per energia a otto grammi di uranio quindi ci si guadagnerebbe molto però quel grammo lì di uranio ovvero gli otto quel grammo di idrogeno ovvero gli otto di uranio equivalgono per energia a bruciare 5.000 tonnellate di carbone beh pensate a quanti vagoni del treno che vengono incendiati e cosa succede e allora capite che un incidente nucleare è altra cosa degli incidenti comuni a cui siamo abituati ho fatto lo stesso conto prendendo la superficie la quantità d'acqua che è contenuta nel lago di Iseo ecco un grammo di fusione di idrogeno equivarrebbe a far cadere 6.300 metri scusate 3-4 chilometri cubi che sono un terzo del lago di Iseo farli cadere con un salto di mille metri sulla pianura sotto beh provate a pensare agli effetti naturali ad esempio di questo e sono elementi che per carità sono immagini queste ma sono dal punto di vista dell'energia esattamente paragonabili allora è chiaro che quanto più abbandoniamo gli elementi che creano combustione o fissione o fusione e tanto più andiamo nella direzione di energie compatibili con il vento le onde del mare l'acqua dei laghi tanto più noi disperdiamo l'energia prodotta e la ricicliamo all'interno della natura mentre un incidente nucleare pensate a Chernobyl dura tuttora e dovranno fare un nuovo contenitore perché le ultime indagini della IEA dicono che nonostante la doppia copertura di cemento con boro il boro è un grande intercettore di neutroni sotto c'è ancora fusione dal mare di Fukushima si è tra l'altro nascondendo come capita purtroppo troppo spesso per gli incidenti nucleari si è disperso così tanto Cesio che è uscito dalla fusione del nocciolo che era immerso in acqua a riposo dopo essere stato consumato che i pescatori di Valparaiso in Cile hanno trovato tracce di Cesio 131 nei pesci che pescavano cioè la natura ha tempi di recupero ha tempi di riciclaggio a tempi di non danno irrecuperabile che sono compatibili con la nostra esperienza cioè i tempi biologici e i tempi artificiali non sono la stessa cosa cioè io per farvi questa chiacchierata ci metto un'ora e mezza per spedirvela ci metto alla velocità non dico della luce perché la rete va un pochino meno ma ci metto qualche microsecondo ma se voi la volete rivedere ci rimettete di nuovo un'ora e mezza quindi la compressione dei tempi la compressione dell'energia come dire il trattare come un manufatto le armi la terra tutta richiede l'introduzione di un principio di precauzione cioè essere in grado di governare questi processi allora di questi processi ovviamente il processo delle fonti rinnovabili è di gran lunga quello non solo meno impattante ma addirittura più disponibile cioè noi se facciamo la mappa del vento e qui non ve l'ho messa perché la tirerei troppo lunga ma la mappa dei venti delle acque delle foreste di tutto il mondo vedremo che grosso modo si sovrappongono una sull'altra cioè dove c'è tanto sole c'è poca vegetazione allora usi il solare magari dove c'è tanto vento c'è meno sole magari cioè la somma delle tre componenti fondamentali eolico fotovoltaico e idroelettrico è in tutto il territorio del mondo praticamente quasi costante allora queste energie anziché essere scavate trasportate con le condutture metanodotti le navi gasie tutto quello che volete messe in centrale possono invece essere messe direttamente sui nostri tetti sul molo di Genova sulla ho visto che uno dei PNNR pensa anche a un'applicazione fotovoltaica vicino a Genova quindi perché sono andato a cercare poi vi dirò qualcosa sui PNNR però la cosa straordinaria è che queste sono energie che non emettono CO2 se non quando vengono installate e costruite cioè oggi per fare un pannello solare deve usare petrolio ma ormai siamo arrivati a un livello per cui i costi dell'energia dalle rinnovabili e la capacità di produzione attraverso sistemi rinnovabili è possibile cioè una isola che stanno progettando in questi giorni in Islanda a cui confluiscono 25 25 25 addirittura no 11 gigawatt di eolico di tutto il Mar Baltico è in grado di immagazzinare in forme di idrogeno e di distribuire in comunità energetiche dotate di elettricità tutto quanto serve a una quantità di popolazione che equivale oggi a 4 milioni e mezzo di abitanti naturalmente occorre sviluppare grande conoscenze tecnologie siamo vicinissimi questo progetto ad esempio danese che io ho avuto la fortuna di poter anche sfogliare è vicino alla realizzazione ad esempio loro hanno la fortuna di avere il Mar Baltico fortuna dal punto di vista turistico è una sfortuna ma il Mar Baltico non è molto profondo e quindi le paleoliche anche alte 120 metri le possono piantare dentro il fondale marino da noi il fondale marino e il mediterraneo è 3.000 metri a volte cioè dove tira il vento forte fuori costa e quindi sta venendo avanti la tecnologia dell'eolico galleggiante che porta ve lo racconto come ultima cosa dopo aver parlato un attimo della fusione del nucleare al al progetto ormai approvato a Civitavecchia di sostituzione del turbogas avete domande ora da fare o perché adesso vado rapidamente verso le conclusioni Teresa hai visto se ci sono domande no in chat sono rimaste le considerazioni di Marco sul fatto che bisognerebbe tassare la crescita di CO2 anche in qualche modo quando si supera il budget delle emissioni consentite certo noi siamo già a 417 pensate che prima dell'era industriale eravamo parlo del 1600 a 290 parti per milioni ma se arriviamo a 500 quello che dicevo è che la tassazione deve essere a crescere e se uno considera il carbon budget come una cosa che non deve essere superata al crescere delle nostre emissioni portandoci vicino al limite via via che questo limite scende perché lo stiamo esaurendo è una funzione iperbolica quindi la tassazione dovrebbe seguire questo tipo di funzione in crescita una crescita iperbolica hai perfettamente ragione questa cosa lo diceva Scher che è stato per lungo tempo il presidente di Solar Europe che insisteva sul fatto che le emissioni di CO2 indifferentemente dal momento in cui vengono immesse in atmosfera e dall'avvicinamento alla soglia vengono messe al mercato sempre a prezzi bassissimi a 80 euro alla tonnellata lui diceva più ci si avvicina e più bisogna farle costare 1000 2000 euro alla tonnellata altro che 80 euro e allora vedresti che si cambia il meccanismo e alcune devo dire che alcune grandi imprese incominciano a muoversi in questa direzione in Italia quella più avanti e guardate che non sono amico di questi è Enel che con la di Starace ha profondamente modificato il mix della propria offerta di energia difatti è stato grazie a una decisione dopo una grande mobilitazione che è durata due anni di Civitavecchia che l'Enel ha deciso di non aprire una centrale a turbogas a posto di quella a carbone ma di sostenere partecipando anche lei attraverso anche la Cassi Depositi e Prestiti e attraverso anche un azionariato popolare alla creazione di 270 megawatt di eolico galeggiante che sono già finanziati in buona parte anche da quella società danese che ha la più grande esperienza in questo settore ecco se volete racconto un momento la questione del nucleare ma molto rapidamente allora Cingolani ha raccontato sempre che noi facciamo come il sole facciamo la fusione del sole non è affatto vero il sole ha un diametro così tante volte più grande della terra che la forza di gravità fa sì che i nuclei di elio al centro nella massa centrale del sole si fondano direttamente quattro per volta quattro atomi di scusate di idrogeno si fondano e facciano un atomo d'elio questo dà una quantità di energia molto grande che però non crea problemi immediate se non sul sole ma nessuno di noi va sul sole noi siamo alla distanza giusta perché arrivi mediata dall'interazione con l'atmosfera una quantità di energia che ci tiene a una temperatura media di 17 gradi quando si dice allora che noi facciamo la fusione che fa il sole qui sulla terra diciamo una grande bugia noi non siamo capaci non potremmo fondere quattro atomi di idrogeno perché ci occorrerebbe una quantità di energia che non abbiamo assolutamente a disposizione allora abbiamo scelto di far fondere dei nuclei di trizio e di deuterio in spazi piccolissimi quando io sono andato a fare questo stage a come si chiama a Cadarache la capsula in cui veniva fatta la prima prova e non aveva nemmeno dato risultati positivi il primo risultato positivo ma vi dirò anche perché non non dice che anche è quello di quel gett americano che ha fatto fondere deuterio e trizio in una capsula grande come un capello con 25 laser che funzionavano alla massima potenza che dopo aver restituito l'energia immagazzinata e puntata su quel filo su quel capello hanno dovuto riposare per due giornate intere per raffreddarsi quindi non è granché capite un istante di energia e poi due giorni di attesa vuol dire che siamo lontanissimi che quindi quando ci dicono che la fusione è qui da venire ma io quando ero andato a Cadarache sentivo i più grandi esperti Coppi Saint-Jean Mosca che dicevano noi la fusione non riusciamo a renderla commerciabile almeno non prima di 50 anni ma prima di 50 anni è già arrivato un grado e mezzo capite allora questa storia della fusione è un modo per dirci aspettate che poi arriva il sacro graal intanto tenetevi quello che c'è è una forma di negazionismo di dilazione cioè per questo io la chiamo un'illusione cioè noi oggi per far collidere e fondere Deuterio e Trizio prima di tutto dobbiamo prendere Deuterio che ce n'è poco come dentro l'acqua c'è l'8% di Deuterio di Trizio non ne abbiamo proprio cioè di Trizio ne produciamo una minima quantità all'interno dei reattori veloci e poi nelle rocce è disperso è un materiale molto molto raro quindi sarebbe costosissima questa e infatti ad esempio Rubbia si era indirizzato a fusioni di beriglio cioè di altri materiali che avessero una sezione d'urto non così svantaggiosa come questa del Deuterio Elio su cui si stanno costruendo quelle enormi macchine ecco vedete l'omino ecco l'omino è questo lo indico qui e questo è il tokamak sapete che quando il capello di idrogeno fonde e emette una quantità rilevante di energia spara neutroni da tutte le parti e dopo un po' bisogna sostituire tutta l'apparecchiatura intorno che è diventata non radioattiva come i materiali fissili ma mediamente radioattiva quindi va confinata bisogna fare enormi depositi di materiale radioattivo quindi la fusione a mio giudizio non c'è però questo prendetela come una mia è una specie di specchietto per le allodole insomma perché guardate oggi il nucleare come quello di cui parlava prima l'ingegnere nucleare a Olfiguoto ha questo costo ancora di più quello del ancora di più di 151 euro al megavattora e costa solo 42 quello da vento e solo 43 quello che viene dal sole e è al di sotto di quello che viene dal gas con il fatto però che il gas produce CO2 e che poi un investimento come quello del solare o del fotovoltaico è potenzialmente in condizione di essere in gran parte riciclato cioè oggi ancora no però i nuovi pannelli solari che hanno prodotto in Svizzera ancora un po' a livello se volete di dimostrabilità sono riciclabili per il 92 3% e quindi quasi tutto insomma puntano a un riciclaggio completo usando una forma di di silice trattata in modo diverso e anche su questo stanno lavorando molto i cinesi e gli israeliani sempre su questo piano pensate a un modello come questo che è quello che tiene aperta la partita di Civitavecchia una serie di pannelli fotovoltaici messi sopra le banchine del molo 27 pale che qui non sono disegnate molto più potenti cioè ognuna da un megawatt di potenza galleggianti disposte a 35 chilometri di distanza quindi non visibili convergono su un elettrolizzatore che produce idrogeno che viene conservato e può passare in una cella combustibile che può far andare motori elettrici con maggiore rendimento quanto più sono pesanti cioè va meglio sulle navi o sui treni che ancora sulle macchine ecco la gran parte dell'elettricità però può andare direttamente alle oltre che ai veicoli naturalmente ai fornelli alla città in quale forma e ve lo facevo vedere prima in forma di comunità energetica cioè si fa un azionariato la legge che esce adesso è particolarmente buona non ancora molti contrasti perché come era naturale i grandi produttori contrastano il distacco dai contatori abituali però le singole cabine primarie possono sostenere almeno una popolazione di mille mille cinquecento abitanti in tutti i loro bisogni e addirittura se poi le case o i condomini sono assistiti da batterie che vengono caricate direttamente in loco beh allora le colonnine anche per il trasporto delle automobili possono essere direttamente alimentate senza che scorra petrolio senza che sia emessa CO2 ecco questa è l'altra questione importante ci sono di mezzo secondo l'MIT che ha mandato queste slide 11,5 milioni di posti di lavoro erano già disponibili e sono state già misurate nel 2019 con uno scarto dovuto alla pandemia che viene recuperato cioè se ci fosse stata le stesse condizioni del 2018 l'espansione delle rinnovabili avvenuta nel 2019 e nel primo trimestre del 2020 ha portato a 11,5 nuovi posti di lavoro sicuramente tutti più qualificati di quelli che ci sono nelle centrali a carbonio nelle centrali a gas e a Civitavecchia questa cosa aveva portato a un tale gradimento che si sono fatti due scioperi cittadini e per tre turni hanno scioperato gli operai in centrale perché la prospettiva di montaggio e di manutenzione di questo sistema attorno a Civitavecchia prevede tra manchine del porto e organizzazione della rete elettrica e pale 840 dipendenti fate conto che il gas avrebbe dato 57 dipendenti oltre a tutto il danno che ne proveniva qui vi parlo subito per finire del se volete mi fermo e poi vi parlo un attimo del PNN scusa volevo dire che a conclusione del nucleare Marco osservava ovviamente che più il sistema è complicato più la probabilità che succeda qualcosa si avvicina a uno naturalmente invece sull'elettricità le astre energetiche per l'elettricità coi prezzi guidati dall'attuale tecnologia più costosa il gas per esempio fa pagare tanto l'energia che consumiamo anche se sarebbe molto meno costosa quella prodotta dai pannelli fotovoltaici e dalle oniche direttamente e questa è una distorsione non da poco che stiamo subendo dal mercato e stiamo è in atto un'azione anche di lotta se vuoi che per adesso coinvolge alcuni movimenti in Italia anche questa mia organizzazione Energia Felice ne fa parte per svincolare il prezzo dell'elettricità da rinnovabili dal prezzo dell'elettricità fornita dal mix fossile cioè abbassarlo e già quella che consumi in casa tua è gratis no? con le nuove pannelli però sai poi quella che non consumi e che devi dare all'enerla perdi è sempre piuttosto svantaggiata se invece la potessi prezzare a un prezzo diverso da quello delle fonti fossili avresti il vantaggio facevamo i conti di poter recuperare un impianto da 4 megawatt su un tetto in un tempo di 4 anni 4 anni e mezzo a secondo di dove abiti poi con queste stati qui io ho un sistema solare che mi sta addirittura non dando troppo ecco era modulato su 4 megawatt funziona continuamente a 4 e 2 durante il giorno dovrei mettergli una copertina sopra insomma si guadagna l'Enel perché si porta via tutta quella che non uso io potremmo finire sul PNRR perché allora avete capito che serve un cambiamento radicale per evitare una crisi sanitaria ambientale economica sociale energetica e le guerre ecco su questo vi dico allora che cos'è il PNRR così ve lo do come quadro generale è un bacino di finanziamento cooperativo a cui l'Italia ha avuto un eccezionale accesso credo 357 miliardi e è suddiviso su 4 categorie per quanto riguarda l'energia la quantità è molto rilevante credo che sia quella più rilevante se ricordo bene 152 miliardi allora il PNRR il PNRR deve obbedire in ogni progetto che viene progettato approvato e finanziato a mantenere la sostenibilità delle filiere produttive che innova quindi non si può il PNRR utilizzare per il gas ad esempio o per il carbone il tentativo della Polonia e oggi purtroppo anche dell'Italia con l'ultimo ministro della Bulgaria e della un'altra scusa importante e dell'Ungheria è di dare accesso a finanziamenti del PNRR anche nel caso in cui l'economia circolare sia semplicemente migliorata non invece esaustivamente certificata cioè magari mettendo dei filtri alle ciminiere l'altra grande filiera che può essere interessante per le vostre scuole è quella di valorizzare le culture identitarie che hanno un significato strategico per il territorio dove vivete meglio ancora rendere il risparmio energetico misurabile in termini che vengono dai singoli progetti quantificati cioè ad esempio faccio per dire non più di 270 grammi di CO2 al megawattora nelle sistemi di batterie cumulative possono e qui vengo verso la parte che a voi interessa di più possono le finanziarie regionali e voi ne avete una buona in Liguria perché ci ho lavorato essere capofila di progetti e con ogni probabilità se voi vi informate è probabile che la finanziaria regionale Ligure abbia presentato dei progetti così come le organizzazioni come il CNA o la CGA le organizzazioni delle piccole e medie imprese sono titolari di progetti che possono essere poi come si può dire suddivisi su piccole attività produttive quindi questo ci mette già di fronte a un livello di partecipazione di conoscenza di accesso che purtroppo ad oggi ci è negato ma che nella legge che istituisce il PNRR è invece contemplato anzi richiesto cioè si dice che un presidio locale deve essere costruito nei territori cioè che so potete costituire se avete un comitato un movimento un presidio che segue la l'insediamento che viene finanziato dal PNRR e come vengono spesi i soldi le finanziarie regionali possono fare da supporto e quindi la pubblica amministrazione gli enti locali e le comunità sono soggetti legali del PNRR però guardate adesso cos'è successo questo l'ho visto ieri scusate anzi oggi l'ho visto non riesco a farla fermare scusa perché è andata a fine presentazione peccato adesso no non riesco precedente spero ecco così sì sono riuscito allora non sto fermo vedo se riesco di nuovo col mouse precedente scusate facciamo un montaggio eccola qua la corte dei conti ha fatto uscire su sole 24 ore dell'8 marzo in questo siete abbastanza fortunati perché mi è capitato per caso questa cosa la corte dei conti è severissima si esprime con questi giudizi io non li ho messi tra virgolette ma dice così ha esaminato 58 scusate 38 i primi 38 PNNR presentati cosa di cui ad esempio io non non ne so nulla il problema è quello che ne sappiamo praticamente niente non c'è informazioni e dice i miliardi che qualcuno sta già gestendo dice la corte dei conti delle cose severissime dice io ne ho esaminati 38 e rilevo inadequatezza programmatoria ritardi nella selezione dei progetti da mettere al finanziamento cioè state perdendo la scadenza incapacità delle pubbliche amministrazioni cioè dei comuni delle città di impiegare le risorse stanziate responsabilità sia dei governi centrali che locali con una nota particolare sull'assenza di interventi sull'edilizia scolastica e esamina 38 progetti al sud 30 al nord 14 al centro 2 nelle isole e 1 nel quando dice centro-nord lì indica l'alto adice ecco la cosa fa abbastanza impressione perché quando lei ne ha prelevati proprio in modo stocastico in modo casuale 38 su 68 più 14 72 82 no scusa quello è il 100% il 100% è quello lì quello è in percentuale su 225 525 e sono 52,7 allora gli interventi su un totale di 225 approvati dal governo sono stati analizzati dalla Corte dei Conti per un valore di 52,7 miliardi quindi non poca cosa e questo mi ha molto dico anche amareggiato insomma perché sai dalla Corte dei Conti vuol dire che prima di arrivare alla Corte dei Conti è passato un sacco di tempo quindi ci hanno lavorato ad esempio perché non coinvolgere su questi noi adesso proveremo magari come associazione a chiedere alla Corte dei Conti questo rilievo e andare a vedere che progetti sono ecco voi avete il diritto di partecipazione con foronto e addirittura negoziazione questo è importante perché non si sembra proprio niente questa informazione e le lascio perché le ho prese perché sono scritte così cioè si deve avere un tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale anche per gli effetti sociali quindi con le parti sociali quindi anche il sindacato o i comitati o i comitati le regioni le province gli enti locali le categorie produttive le università la ricerca e la società civile non so già cosa diranno che è una perte di tempo dobbiamo spendere rapidamente quindi facciamo ed è involgente farlo perché però io adesso vi ho scritto no no ha fatto bene però sono molto demoralizzato anche di questo prendiamoci in parola proviamo a muovere assieme magari mi pare una buona idea poi sulla Liguria e anche noi facciamo sulla Liguria poi io seguo Civitavecchia e poi in Bonfalcone ecco io chiudo qui vi ho scritto le associazioni che io conosco e che voi potete contattare dalla coalizione Climala ecco chiudo facendovi un po' sorridere vediamo non è capitato successiva allora Douglas Adams scrive uno splendido libro che vi consiglio perché è divertente che si chiama sfida galattica per autostoppisti si immagina che alieni ultra intelligenti perché è così grande l'universo che ormai diamo per probabile che ci siano altre specie magari in altre condizioni chissà dove sono però ultra intelligenti e si domandano ma come mai e perché viviamo pur essendo ultra intelligenti sono così ultra intelligenti che costruiscono un super computer il più super computer che i più super intelligenti possono immaginare questo elabora per sette milioni di anni e racconta intanto i viaggi che fanno per andare a visitare per questo e per autostoppisti perché usano delle astronavi che di volta in volta vengono descritte come fatte da zingari esce da questo super computer 42 e tutti si domandano ma qui abbiamo fatto una cosa immensa abbiamo lavorato per sette milioni di anni cioè il tempo in cui loro che sono super intelligenti sanno che probabilmente si è svolta la vita da loro e esce 42 allora incominciano a ragionarci in tutti i modi e costruiscono un modello e il modello che costruiscono è fantasia questo è esattamente e delle stesse dimensioni con gli stessi mari le stesse foreste così della terra cioè loro fanno un modello un computer che gli deve dare la risposta di perché vivono che è fatto esattamente come la terra e questo modello si mette a funzionare per il tempo in cui è nato il genere umano cioè vi dicevo per 300.000 anni alla fine stanno per ricevere una risposta la gente del posto che vive sulla terra la incendia capite con cosa vuol dire questo cioè ci stiamo incendiando non è tanto divertente non è divertente però il libro è un libro pieno di non è diciamo così dobbiamo in qualche modo darci da fare tutti quanti per quello che siamo capaci questa monte rosa come lo vedo da casa mia guarda si ringraziamo ringraziamo Mario di questa stimolante perché me lo immaginavo che da un fisico non potevano avvenire fuori cose banali infatti è stato così quindi ringraziamo io ringrazio anche tutti quanti hanno collaborato lo zenzero che ci sta ospitando Maria Teresa Tuccio e Cristofer che è Garaventa che hanno fatto un po' la regia di questa serata e caro Sessarego che ha curata la grafica di queste nostre serie di incontri Maria Teresa il prossimo appuntamento quale sarà? molto velocemente intanto la registrazione di questa conferenza per tutte le precedenti potete trovarla sui nostri siti zenzero.org e coistitutoregge.it ecco io vi chiedo anche il favore di spedirmela per mail così poi la faccio girare anche tra i miei senza altro la fine della conferenza e poi volevo dire che la prossima sarà il 6 febbraio e incontreremo Favoino Favoino che è un il mese prossimo non è febbraio è aprile è aprile scusami 5 aprile scusami il 6 aprile naturalmente Favoino l'utopia dei rifiuti zero quanto ci siamo lontani quanto ci avviciniamo cosa si può fare per avvicinarci di più cosa stiamo facendo per avvicinarci di più certo ancora grazie Mario grazie tanto a voi scusate per aver abusato è interessantissima questa possibilità di collaborazione ecco io vi chiederei di darci in parola queste due cose l'osservatorio sul PNR Ligure e la scusa avevamo delle scuole sì un corso un corso di formazione per gli insegnanti un corso per le scuole ecco le due cose sono due belle cose poter collaborare insieme sarebbe proprio bello poi ti mando il link della registrazione e tu mi mandi il link delle 18 lezioni scaricabili per favore volentieri volentieri quando mi arriva il tuo io vado a cercare quell'altro perché credo l'abbiano messo su una nuova piattaforma quindi passerà 4-5 giorni prima che senza fretta ma appunto tanto da averlo assolutamente utilizzarlo insomma sì assolutamente grazie ancora Mario